bentornati in un nuovo video in questo video vi mostrerò come montare l'antenna a pinna di squalo su tutte le macchine per prima cosa andiamo a pulire intorno all'antenna dove andremo attaccare la nostra pinna di squalo vi metto comunque il link in descrizione potete prendere la sua aliexpress potete andare anche in negozi come norauto e bips via dicendo allora una volta pulito andiamo a svitare la nostra antenna io non ho l'originale quindi lascerò questa vite che vedete ma in dotazione viene data anche un'altra vite dopo questo andiamo attaccare l'adesivo sulla nostra antenna staccando la parte che copre appunto il nostro adesivo andiamo a incollarla a farla aderire perfettamente all'antenna qui adesso il passaggio è molto semplice dobbiamo mettere questo anellino dentro alla vite che c'è in dotazione io ripeto uso la mia andiamo a chiudere tutto col bullone che viene dato insieme a quella vite io ho lo stesso filetto quindi andrò ad usarla su questa vite che ho già incastrato dentro una volta avvitato tutto andiamo fino in fondo in modo da tenere l'antenna comunque salda se dovesse mai scollarsi e andiamo a rimuovere la patina rossa ecco qua piano piano la togliamo stiamo attenti a non graffiare la carrozzeria mettiamo magari un panno sotto ecco qui dopodiché andiamo a spingere forte ad incollare la nostra pinna di squalo fate attenzione alcune antenne sono un po curve quindi prima di essere incollate vanno lavorate con la carta vetro via dicendo questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per nuovi video